Durante l'ultima settimana della moda di Milano si è rivista in città anche Raffaella Zardo Io starò poco a Milano e in Italia in generale perché adesso lavoro come PR con Cipriani e comunque ho ripreso anche il mio lavoro di sempre, delle pubbliche relazioni quindi d'estate starò in Spagna in Pisa a seguire un nuovo club e poi d'inverno c'è un progetto invece dall'altra parte dell'oceano per cui in Italia ci tornerò ma per gli ammetti, per gli amici, per te, per la famiglia Ma che progetto c'è oltreoceano? Eh amore non te lo posso dire Grazie